Va bene, allora vi dicevo grazie e pace perché quando tu ti rendi conto che Dio ti ama così come sei, non hai paura di andare da lui, ognuno di noi in qualche modo sbaglia, in qualche modo pecca, quando sbagli la religione ti dice hai sbagliato, hai peccato, vi faccio un esempio, mettiamo il figlio e il figlio prende la macchina di papà e magari beve un goccino di troppo e di notte va fuori e sbatte la macchina, la religione cosa gli dice? Gli dice se vai da tuo padre, tuo padre ti dà una manica di botte, sarà meglio che scappi, giusto? La grazia cosa dice? Ho fatto un pasticcio, sarà meglio che vada da papà a farmi aiutare e quella è la totale differenza fra grazia e religione, la grazia ti avvicina a Dio perché la grazia mette tutta l'importanza su di lui, non sono più io che devo guadagnarmi qualcosa, la religione mette tutta l'importanza su di te, sei tu che devi migliorare, sei tu che devi cambiare, sei tu che devi smettere di peccare, sei tu che devi promettere di non farlo più, sei tu che ti devi pentire, sei tu che devi fare la penitenza, sei tu che devi fare e la religiosità mette sempre a fuoco l'uomo. Io di fatto lo chiamo il narcisismo spirituale perché voi sapete che il narciso si è innamorato del suo riflesso nell'acqua e il religioso in un certo modo si innamora del suo comportamento perché è lui che deve comportarsi bene, è lui che deve lavarsi, è lui che deve pettinarsi, è lui che deve presentarsi bene davanti a Dio pur sapendo che non lo potrà mai fare perché davanti a Dio non c'è una scala di valori, non c'è una scala di pulizia, non c'è un peccato di serie A, un peccato di serie B, perdonami come il peccato veniale, il peccato mortale, no davanti a Dio c'è o sei perfetto o non puoi entrare. Leggiamo un attimo, c'avevo la Bibbia io, il cristianesimo ci è stato presentato come un manuale per migliorarsi, è vero o no? Tu se sei un cristiano dovresti essere migliore, noi siamo qui e domenica potremmo essere fuori a mangiarci una pizza eccetera, invece siamo qui, non siamo mica come quei brutti disgraziati che sono là a fare tutto quello che vogliono, noi siamo bravi, noi ci comportiamo bene, noi non diciamo le parolacce, alcuni di noi non fumiamo eccetera 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 eccetera. Ma il cristianesimo non è un manuale per migliorarsi, il cristianesimo è un modo per sostituirsi e non è basato sul tuo comportamento ma è basato sulla tua fede. Ecco perché l'Ebrei 11,6 dice non puoi far piacere a Dio senza fede, non puoi far piacere a Dio perché l'unico modo in cui puoi far piacere a Dio è credere in colui che ha fatto piacere a Dio per te per sempre, che si chiama Gesù Cristo. Senza quello non puoi far piacere a Dio perché non puoi, l'unico modo di far piacere a Dio è quello di essere perfetto e l'unico modo per essere perfetto come dice l'Ebrei 10,14 con una sola offerta, Egli Gesù Cristo ha reso perfetti per sempre tutti coloro che ha santificato. Ed ecco che tutto un tratto agli occhi di Dio il tuo spirito, il tuo vero io è perfetto e ti puoi presentare a Dio e puoi andare a Dio e puoi dire grazia, grazie alla grazia, pace, posso andare da Dio senza il minimo pensiero. E qui di nuovo c'è un'altra parola interessantissima che è la parola giustizia, diakosune nel greco, che è una parola che purtroppo in italiano viene tradotta con questa parola strana giustizia che non è, a mia vista, non è una traduzione giusta perché più che giustizia dovrebbe essere giustezza, non so se la parola esiste, ma in inglese la parola righteousness, righteousness vuol dire essere a posto e colui che non conosceva peccato divenne peccato per noi che noi potessimo diventare l'essere a posto con Dio in Cristo Gesù. Il momento che tu sei in Cristo Gesù sei a posto con Dio e questo è il messaggio della grazia, non è una lista di cose da fare, non è neanche una lista di cose a cui credere, no, è il messaggio che dice accetta quello che Cristo ha fatto per te e sei a posto con Dio. No, ma poi cosa devo fare? Goditi la vita! Fede, quando tu regali una macchinina a Filippo, mettiamo che, vabbè, magari un po' più grande, mettiamo otto anni, ok? Otto, nove anni e tu e Marco gli fate un regalo. È Natale, mettete il regalo sotto l'albero perché non vi siete evangelichezzati, quindi ancora fate l'albero di Natale e mettetela. Arriva Filippo, prende il regalo, lo scarta, vede che è un regalo importante e ti dice, mamma quanto ti devo? Tu come ti sentiresti? Cioè io magari, tu no, ma come quanto ti devo? Ma pensi che l'abbia fatto per farmi ripagare? Cos'è? Pensaci un attimo, cosa sarebbe la tua più grande gioia che Filippo potrebbe darti? Cos'è? Esattamente, godersi il dono che gli hai fatto. È Dio la stessa cosa, ma noi no. Noi arriviamo alla fine dei nostri giorni ancora da scartare il regalo perché il pastore così e così, il reverendo così e così, l'apostolo così e così, il profeta così e così ci ha detto che no, non ti puoi godere la vita perché poi vai nella carne. Ma amore mio, ma vai nel pesce, vai nella carne, ma fai quello che vuoi, ma goditi la vita, Dio te l'ha regalata. E non sto dicendo chiaramente, quando tu hai lo spirito di Dio dentro di te, c'è una guida naturale dentro di te che non ti fa sbagliare. Sbagli, sbagliamo tutti ogni giorno, eccetera, eccetera. Ma, vabbè adesso continuo, devo dirvi questa perché se no, no, la famosa storia del peccato che viene perdonato, no? Cosa dice il religionismo? Dice che Gesù ti perdona i peccati, ok? D'accordo. Ma se questo fosse tutto, è un problema, perché Gesù mi perdona i peccati quando io accetto Gesù e poi dopo? Ecco perché i religionisti cosa ti dicono? Sì, sì, Gesù ti perdona i peccati, adesso vai a non peccare più, perché se no non te li perdona. L'illogicità totale della religione. Gesù ti perdona i peccati, basta che non pecchi più, perché se pecchi un'altra volta non te li perdona più. Ma allora me li ha perdonati o no? Sì, te li ha perdonati, però non devi più peccare. Esempio. Allora, io l'altro giorno a casa ricevo una telefonata, si ammarchò, guardi che il suo debito bancario è arrivato a 5 milioni di euro e qui deve fare qualcosa perché se no dobbiamo denunciarla, eccetera, eccetera. Venga immediatamente, io monto in macchina, vado in banca, il direttore di banca esce fuori con una faccia stralunata e mi dice che è successo un miracolo, cos'è successo? Il suo amico Marco è passato di qua e ha depositato 5 milioni di euro sul suo conto. Ehi, gloria a Dio. E qui il Vangelo normale si ferma, giusto? Gesù ha depositato la sua santificazione, la sua salvezza, la sua perfezione sul mio conto e adesso io sono perdonato. Ok? Ma non basta, perché il banchiere mi guarda e fa, dice, ma non è tutto! Poi è passato il signor Piero e ha depositato 50 milioni di euro e mi ha detto qualsiasi cosa Marchio ha bisogno, pago io. Quello è il Vangelo. Non solo i miei peccati di prima sono stati perdonati, ma qualsiasi peccato io possa mai commettere è già stato inchiodato sulla croce una volta per sempre. Ed è stato pagato dal sangue di Cristo una volta per sempre. Per darvi una prova scritturale, Luca capitolo 15, la storia del figlio del prodigo, cosa dice? Dice chiaramente che il figlio va, riceve la sua parte dell'eredità, quindi il padre gli dà quello che in un certo senso gli è dovuto come eredità in anticipo, ma glielo dà. Lui va, spende tutto. Praticamente è come se gli avesse dato uno zaino pieno di perdono e questo ragazzo è andato e l'ha speso tutto. Non c'è più perdono, ha speso tutto. La Bibbia dice torna in sé e dice a casa di mio padre e anche i servi hanno da mangiare, io tornerò a casa di mio padre perché ho fame e quindi tornerò a casa di mio padre e gli dirò padre ho peccato contro il mondo e contro di te, perdonami, fammi come uno dei tuoi servi. Perché? Perché ho fame, devo mangiare. Lui torna a casa, sappiamo il padre lo vede là lontano, si alza, corre, va per abbracciarlo, lo abbraccia, il figlio comincia a raccontargli la storiella, il padre che non gli interessa niente della storiella, non lo lascia neanche parlare, chiama i servi e gli dice mettete al figlio la veste più bella. Quella veste è un'ombra della veste che Giacobbe aveva dato a Giuseppe che era la veste del capo, del leader, di colui che non doveva lavorare. La grazia non devi lavorare, la grazia ti riconosce come figlio senza che tu faccia niente per meritartelo. Quindi il padre gli dice metteteli la veste di colui che non ha bisogno di opere, che non ha bisogno di lavorare, siete stati salvati per grazia attraverso la fede e questo è un dono di Dio non per opere che nessuno si vanti. E poi cosa fa il padre? Si toglie l'anello dal dito e lo dà al figlio. A quei tempi l'anello era come una carta di credito. Quindi cosa fa il padre? Dice non solo hai buttato via tutti i soldi che ti avevo dato prima, quello zaino pieno di perdono te lo sei fatto, ma tieni qui c'è ancora tutto quello di cui hai bisogno per il futuro, qualsiasi cosa spendi, tieni qui c'è il mio anello, puoi spendere tutto quello che ho. Perché non potrai mai esaurire il perdono di Dio. Dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda. Non potrai mai esaurire o intaccare il perdono o la grazia di Dio. Il buon samaritano cosa fa? Il buon samaritano è mezzo morto per strada, passa il levita, passa il sacerdote e poi arriva il samaritano, lo piglia, lo cura, lo mette sull'asino e lo porta in una locanda. Dà due denari al locandiere e gli dice questo è per ora, qualsiasi cosa spendi, ci penso io, nuovamente non solo quello di prima ma anche quello che verrà, coperto dalla grazia di Dio. Ma vi dicevo, questo è quello che io chiamo il sermone killer, Matteo 5, 6 e 7 di Gesù, un'altra delle cose che purtroppo sono state macellate dalla religione, c'è una pagina subito dopo Malachia capitolo 4 che dice il Nuovo Testamento. No, è sbagliato, perché un testamento non parte da quando una persona nasce. Ebrei 4 dice chiaramente il testamento non ha nessun valore finché il testatore non è morto. Quindi il Nuovo Testamento non parte dalla culla ma parte dalla croce, non parte da Matteo 1, 1 ma parte da Giovanni Tomà 19, 30 quando Gesù dalla croce dice tutto è compiuto. E in quel momento, vi ricordate che il velo del Tempio si strappa dall'alto in basso, anoten, anoten è la stessa parola quando Gesù dice a Nicodemo devi nascere di nuovo, quella gennao nascere, anoten di nuovo, è stata tradotto di nuovo ma letteralmente vuol dire dall'alto che appunto è la stessa parola quando il velo si spezza dall'alto in basso. E di nuovo ritorna a quello che ho detto inizialmente che è tutta l'iniziativa di Dio, dall'alto in basso, tu non centri niente. Il velo si è spezzato dall'alto in basso, si è aperto non perché tu possa entrare alla presenza di Dio, ma perché Dio possa uscire venire dentro di te. Ecco quello è il Nuovo Testamento. Quello è quando Gesù alza il calice e disse questo è il mio sangue versato per voi, il sangue del nuovo patto versato per voi. Senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati. Il momento in cui Gesù ha versato il suo sangue sulla croce, tutti i nostri peccati sono stati perdonati. E cosa vuol dire? Vuol dire che non solo quelli di prima, ma quelli di adesso e quelli di domani, perché quando Gesù è andato sulla croce, a meno che non abbiate più di duemila anni, non avevate commesso nessun peccato. Quindi quali peccati vi ha perdonato? Tutti quelli che avreste fatto nel futuro, che avremmo fatto nel futuro. E in questo sermone killer Gesù dice cose meravigliose, come ad esempio, vi faccio un esempio, Gesù è venuto per cercare di liberare i prigionieri che erano prigionieri dell'idea che dovevano sostenere un determinato tipo di vita per far piacere a Dio. Quelle sono le catene della religione. Gesù ha detto sono venuto per liberare i prigionieri. Paolo nella lettera ai Galati dice chiaramente che Dio ha fatto la promessa a chi? Ad Abramo. 400 anni prima che Mosè andasse sul Sinai a ricevere la Torah. Quindi ecco che tutta la storia dei dieci comandamenti, tutta la storia della Torah, della legge eccetera eccetera, cade per terra, non vale niente perché la promessa è stata fatta 400 anni prima. La promessa dello Spirito ad Abramo, che è quella che riceviamo noi attraverso la fede. Vi sto dando un sacco di roba, spero che qualcosa rimanga attaccato, ma Gesù viene da rabbino nel Vecchio Testamento. Paolo dice in Galati 4.4 al momento opportuno Dio ha mandato suo figlio nato da donna sotto la legge per poter ministrare a quelli che si trovavano sotto la legge. Gesù è stato mandato a Israele, lo dice due volte nei Vangeli, dice non sono venuto per i pagani ma sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Gesù non parla ai cristiani, parla agli ebrei e cerca di fargli capire che è inutile cercare di ubbidire la legge perché non lo potrete mai fare, quindi tirate un respiro di sollievo e godetevi la vita! Scusa adesso un'altra cosa che vi ricordate quando dice venite a ruoti per quote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. Questa è l'impossibilità della legge. Gesù sta cercando di farti capire che è impossibile fare quello che ti chiede di fare perché chi di voi con tutto il dovuto rispetto, con tutto eccetera eccetera, chi di voi passa uno, ti danno schiaffone e tu anche di qua per favore grazie. Ma noi diciamo, eh sì, effettivamente bisogna farlo, io non lo faccio, però bisogna farlo, ma questo non è niente. Avete mai pregato il Padre Nostro? Vi siete mai resi conto di quello che dite? Padre perdona me come io perdono gli altri. Ma sei sicuro che di chiedere a Dio di perdonare te come tu perdoni gli altri? Non credo, perché io gli altri non li perdono, forse voi sì, ma se uno mi taglia la strada in autostrada, un bel che ti scoppino tutte e quattro le gomme allo stesso momento, non glielo toglie nessuno. Poi mi passa, anche perché mia moglie si arrabbia, dici guarda che intanto non ti sente, giustamente. Ma io no, eppure milioni, milioni se non miliardi di persone pregano giornalmente Dio perdona me come io perdono gli altri. E se per caso ci fosse una minima ombra di dubbio, Gesù continua e dice perché se tu non perdoni il tuo fratello dal tuo cuore, neanche il Padre nei cieli perdonerà te. È buona fortuna, siamo tutti cotti, non c'è nessuno che va in paradiso, giustamente Paolo cosa dice? Non ce n'è uno giusto, no, neanche uno. Tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Senza Cristo non c'è niente da fare, Gesù continua e dice se uno vuol farti causa e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Giusto, no? Lo facciamo sempre, immediatamente. Uno che prende, no, non solo il motorino, prendi anche la macchina. E se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Quanti soldi hai in banca? Ancora niente? No, allora parlo con lui. Sta scritto che dai a tutti quelli che ti chiedono. Vedi la follia della religione? Ma lo vedi la follia della religione? Eppure ti dicono, sapete quante volte mi dicono, non sono io che lo dice, lo dice la Bibbia? E io gli chiedo, dimmi dove abiti, vengo a chiederti di darmi la BMW. Giusto? Sta scritto. Non lo dico io, lo dice la Bibbia. Dai a tutti quelli che ti chiedono. E non rifiutarti. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite i coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguinano. Tutti colpevoli. Dal primo all'ultimo. Perché ricordati una cosa. Quando Gesù dice, sta scritto non commettere adulterio, ma io ti dico, basta che tu guardi una donna e la desideri, hai già commesso adulterio. Sta scritto non uccidere nessuno, ma io ti dico, basta che tu chiami tuo fratello Raka, che lo insulti, è come se tu l'avessi già. Eccetera, eccetera, eccetera. Non sta dicendo c'è bisogno di farlo. No, sta dicendo basta che tu lo pensi, basta che tu lo internalizzi e hai già peccato. Quindi non solo non devi fare del male, perché uno potrebbe anche riuscirci. Uno potrebbe stringere i denti, passa uno, papapam! Tu, che Dio ti benedica tanto, tanto. Io prego per te che tu possa, che tu possa star bene per il resto. Uno potrebbe anche farlo, giusto? Potrebbe anche riuscirci. Uno potrebbe anche riuscire, anzi senz'altro, la maggior parte di noi, riuscire a non andare a letto con una donna che è la tua moglie, a non uccidere nessuno. Ma Gesù dice, eh no, non basta, non devi volerlo fare. E qui dove casca l'asino? Perché magari tu riesci anche a perdonare qualcuno, parole, ma dentro di te non lo vuoi fare. Magari puoi anche dare qualcosa a uno che te lo chiede in presto, ma dentro di te dice, ma boh, sono guaio. È quello che succede dentro che distrugge la perfezione di Dio. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Perché se amate coloro che vi amano? Che premio ne avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli? Che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E poi chiude, dice, ah, fra l'altro, siate perfetti come vostro Padre nei cieli è perfetto. Arrivederci. Buona fortuna e se ne va. E qui c'è la linea di demarcazione fra il possibile e l'impossibile. Gesù dice, vi rendete conto che è impossibile? Adesso, state a sentire quello che ho da dirvi, accettate la mia sostituzione, lasciate che lo faccia io, non sono venuto a distruggere la legge, sono venuto a soddisfarla. Quindi identificatevi con me e tutte queste cose che io vi ho detto le ho fatte io, le ho fatte io non per me, non ho bisogno di farle, Dio incarnato, le ho fatte per voi, tutto quello che io ho fatto, l'ho depositato sul vostro conto, sul vostro conto di giustizia ti è stato accounted, in inglese si dice accounted, ti è stato accreditato come giustizia. In altre parole, la giustizia di Cristo diventa la tua giustizia e non potrai mai esaurirla. questo è il Vangelo, questa è la semplicità del Vangelo, non hai niente, adesso che non hai niente da fare, e beh, datti da fare, fai qualcosa. La storia, la storia del, come andiamo? ancora cinque minuti, eh? La storia della donna adultera, vi ricordate, no? I farisei trovano una donna colta sul fatto, ritorniamo al padre perdonare perché non sanno quello che fanno, non è che Gesù gli dice, no ma lei non è colpevole, no no è colta sul fatto, colpevole, ognuno di noi, ragazzi, ognuno di noi, stando a quello che ho appena finito di leggere, siamo tutti destinati all'inferno, perché siamo tutti colpevoli di aver fallito in almeno una di quelle cose lì, e la lettera di Giacomo dice, chiunque non soddisfa una piccola parte della legge è come se l'avesse disubbidita tutta, perché? Perché non puoi migliorare la perfezione, o sei perfetto o non lo sei, il momento che la perfezione viene intaccata, la puoi spaccare in due, la puoi buttarci una pentola d'inchiostro sopra, oppure puoi farci una macchiolina, non è più perfetta, probabilmente sapete che la parola amartia, peccato, letteralmente vuol dire centrare il bersaglio, ed è anche per quello che quando noi sbagliamo qualcosa, cosa diciamo? Ah che peccato, abbiamo mancato la perfezione, abbiamo mancato il bersaglio, e che tu manchi il bersaglio di un centimetro o di un chilometro, hai mancato il bersaglio, davanti a Dio non ci sono peccati di serie A, o sei perfetto o non lo sei, punto e basta, e siccome l'unico modo per poter essere perfetti è accettare la perfezione di Cristo, l'annuncio del Vangelo è molto semplice, oggi a te è nato un salvatore che si chiama Cristo Gesù, ma cosa devo fare? Niente, il Vangelo è un annuncio, non è una richiesta, oggi a te è nato un salvatore che si chiama Cristo Gesù, ma io sono musulmano, non ci credo, ma cosa mi interessa? Io ti sto dando un annuncio, adesso quello che ci fai con quell'annuncio determinerà il tuo futuro, la tua eternità, ma l'annuncio del Vangelo è tu non devi fare niente, Dio ha già fatto tutto, se vuoi goderne i benefici, accetta il versamento che Dio ha fatto sul tuo conto di 50 milioni di euro. Amen? Mi sembra abbastanza semplice, la donna presa colta in fragrante, i farisei sbavanti alla bocca perché la religione adora quando uno sbaglia, no? Avete mai sentito che sì, 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 no, lui è venuto, è venuto in comunità, poi è andato avanti, ha fatto la preghiera, ha dato la sua vita a Cristo, ma poi dopo cinque mesi ancora fuma, ancora va a donne, ancora fa questo, ancora fa quello. Quello io lo chiamo agnosticismo cristiano, sai chi è un agnostico? Un agnostico, l'ateo ti dice Dio non esiste, ma l'agnostico dice dammi le prove, finché non mi dai le prove non ci credo. La maggior parte della chiesa cristiana è la stessa cosa, dammi le prove che sei un cristiano se no non ci credo. Cioè il fatto che la Bibbia dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, non basta, devi farmelo vedere, devi darmi le prove se no non ci credo. E questa è la tristezza della religione che punta il riflettore su di te e dici sei tu che devi dimostrare, ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Prima di tutto non sono affari tuoi, la Bibbia dice chiaramente prima di giudicare la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello tirati via la trave che c'hai nel tuo, ma difficilmente si sente predicare su quei versetti lì, no? Quindi non sono affari tuoi giudicare se quello lì sta andando in discoteca piuttosto che andare in chiesa, o se fuma o se non fuma, o se si droga. Se è un cristiano è un cristiano idiota che si droga, che si distruggerà la vita, ma se figlio è, figlio resta. Tornando a questa santificazione cosiddetta che deve essere dimostrata per poter credere che tu sei cristiano, vi faccio un esempio. Mia moglie di abbiamo un nipotino, ve l'ho detto, che si chiama Kai. Kai ha nove anni, no? Kai ha nove anni e Kai è maschio, ok? È nato con un cromosone così e l'altro così, un X e un Y, ok? Kai è maschio, perché nonostante quello che dicono gli idioti di oggi, o sei maschio o sei femmina, o sei masculo o sei femmina, ok? Non c'è, non c'è maschina o femmina. Kai è maschio, ha un corpo da maschio, ha attributi particolari che non devo descrivere, che fanno, che provano il fatto che sia maschio, non ha ancora la voce da maschio, però è maschio. È maschio e un giorno nel lontano, lontano, lontano futuro è nato maschio e morirà maschio. Ma se Kai decidesse di dare ascolto a questi idioti che dicono che allora se tu l'identità, se tu ti senti donna, se tu ti senti femmina, e incominciasse a vestirsi da donna, da bambina, non è più maschio? Sempre maschio è. Ma se lui continuasse magari e amputasse qualche particolare anatomico eccetera eccetera, cambiano i cromosoni? Diventa femmina? Da X in Y diventa X in X? No, perché maschio è, maschio resta. E quella è la santificazione. Tu forse ti puoi comportare da femmina, ma maschio sei, maschio resti. Tu ti puoi comportare da pagano, da mischeredente, da idiota, ma figlio sei, figlio resti. Perché la nuova nascita non è un'applicazione di uno stampo sul tuo passaporto, è una nuova nascita. Eri morto in Adamo, adesso sei vivo in Cristo. E ci sono due tipi di vita. Ne ho parlato l'anno scorso. La dimensione della croce è una verticale e un'orizzontale. La dimensione verticale è la vita eterna di Dio. La vita eterna che tu ricevi quando accetti, quando nasci di nuovo, accetti la sostituzione di Cristo. Paolo dice, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che io vivo, la vivo grazie alla fede di colui che ha dato se stesso per me. Questa vita qui non la puoi toccare perché è la vita eterna e la vita eterna appartiene soltanto a Dio. La vita eterna soltanto Dio ce l'ha. La vita che non ha inizio e non ha fine. Tu puoi essere immortale, Adamo era immortale, ma Adamo ha avuto un inizio e non avrebbe avuto una fine se non avesse peccato e permesso al peccato di entrare nelle sue membra e di incominciare a ucciderlo. Ci ha messo 960 anni, però è morto, ma non era eterno. Ed ecco il motivo per cui Dio l'ha preso e l'ha sbattuto fuori dal giardino dell'Eden perché se nella sua situazione andava a prendere, a cogliere il frutto dell'albero della vita, che è un'ombra della croce, sarebbe diventato eternamente separato da Dio e questo Dio non lo poteva permettere ecco perché l'ha tolto. La vita eterna appartiene solo a Dio, solo Dio ha questa cosa che si chiama vita che non ha inizio e non ha fine. Ma c'è un altro tipo di vita. Gesù ha detto sono venuto a portarvi vita, vita in abbondanza, questa non la puoi toccare, ma questa sì. Ti comporti male, vai a 200 all'ora sull'autostrada, ti droghi, bevi troppo, ammazzi qualcuno, fai una rapina in banca, ne paghi le conseguenze. Ma io sono cristiano, amore mio, sei idiota cristiano. Perché dovresti saperlo che se ti riempi le vene di cocaina o quello di eroina, prima o poi ti uccide. Dovresti saperlo che se tratti male tua moglie, prima o poi ci rimetti il matrimonio. Dovresti saperlo che se vai a vedere i siti pornografici, prima o poi ti distrogi la tua mascolinità, perdi la moglie, perdi la famiglia, perdi la vita, prima o poi il peccato ha conseguenze letali. La vita abbondante la puoi perdere perché dipende da te. La vita eterna no, perché dipende da lui. Ed ecco che la donna viene trascinata ai piedi di Gesù, il quale stranamente sta scrivendo sul selciato. Davanti al muro del tempio non c'è terra, ci sono pietre. Gesù sta scrivendo col dito sulla pietra. Vi ricorda qualcosa? Sul monte Sinai, Dio dalle tavole della dice che lui ha scritto con il suo dito. Ma non solo, per far capire a tutti quello che stava succedendo, i farisei gli dicono cosa dobbiamo fare, rabbino buono, cosa dobbiamo fare con questa donna? Gesù non proprio non ne è, continua a scrivere. Ehi, oh, cosa dobbiamo fare con sta donna? Ah, scusa, smette di scrivere e dice sì, penso che dovremmo lapidarla, perché la legge dice che dobbiamo lapidarla. Ma facciamo una cosa, chi di voi si sente puro di questo peccato, scagli pure la prima pietra e poi scrive un'altra volta. Perché? Perché quando Mosè trovò Israele che adorava il vitello, cosa fece delle tavole di pietra? Le spaccò e Dio le dovesse riscrivere un'altra volta. Per due volte il dito di Gesù scrive che cosa? Io penso, non lo so, poi vedrò il video quando sarò in paradiso, ma penso che scrive la legge come per dire, ragazzi ma chi vi credete di essere? Se io dico che lei è perdonata, lei è perdonata, perché la legge l'ho scritta io, punto e basta. Tanto è vero che partendo dal più vecchio, che di solito sono sempre i più vecchi che si rendono conto che si ha ragione. I più giovani sono un po' più idealisti. No, io queste cose non le ho mai fatte. Sì, bravo, invece i vecchi, partendo dal più vecchio, lasciano cascare le pietre e se ne vanno. E la Bibbia è bellissima perché dice che la donna rimane da sola con il Signore. Ed è la condizione di ognuno di noi. Il 2 febbraio 1982, nello sporco del mio bagno, io mi sono trovato da solo con il Signore. E lui non mi ha detto darti una ripulita, non mi ha detto ma siamo sicuri che la smetti di fare tutte ste scemate che stai facendo. Siamo sicuri che la smetti di comportarti male? Siamo sicuri che mi imprometti? No, niente. Io gli ho chiesto di aiutarmi e lui mi ha aiutato. Non ho chiesto perdono, non ho promesso di smettere, non mi sono pentito perché i peccatori non sanno neanche di essere peccatori. Sanno soltanto che c'è questo demone che ti sta mangiando il cervello e che in qualche modo tutto quello che desideri di trovare l'interruttore della vita dove puoi spegnere e far finire il dolore. Gesù se la guarda e gli dice, donna, dove sono quelli che ti condannano? C'è nessuno che ti condanna? E lei? Io immagino, immagino, ripeto, vedrò il video quando arrivo su, ma immagino che Gesù prima di quello avrà detto, Matteo togliti il mantello e copri questa ragazza. Perché era stata colta sul fatto e la religione ti vuole smascherare, ti vuole smascherare e quindi probabilmente l'avranno trascinata nuda davanti al Signore. E Gesù probabilmente ha detto, Matteo togliti il mattello e copri questa ragazza. E poi le dice, c'è nessuno che ti condanna? E lei non è che dice, no Signore perdonami, non lo faccio più, no, anzi, probabilmente con i capelli lunghi, sporchi, sudati sulla faccia. Se li toglie dalla faccia dice, no, non mi condanna nessuno. Peccatrice, non pentita, dura nel suo peccato, dice, no, non mi condanna nessuno. Come per dire, chi si credono di essere? E Gesù dice, non ti condanno neanch'io. Questo è il Vangelo. Non ti condanno. Perché? Perché non sono venuto per condannare, sono venuto per salvare. Non ti condanno. Quella dimensione è sicura. Non ti condanno. Adesso vai e non peccare più. Perché se pecchi un'altra volta, la prossima volta non ci sono io a salvarti la vita. Questi disgraziati ti lapidano davvero. E il peccato ti fa male. Vedi come ti sei ridotta. Ma lo vedi cosa ti ha fatto il tuo stile di vita? Non lo fare più. Vai e non peccare più. Il cuore di Dio ti dice vai e non peccare più. Non la legge di Dio. La legge di Dio ti dice ho pagato io per il tuo peccato. Vai, sei libera. Non hai bisogno di chiedere perdono. Non hai bisogno di pentirti. Non hai bisogno di promettere. Io non ti condanno. Adesso però, siccome ti voglio bene, non lo fare più. O almeno cerca di non farlo più. Amen. Ragazzi, io... Alleluia! 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 Grazie a tutti.